Prego, si apre con me, mi dica qual è il suo problema. Dottoressa, il mio è un caso assai singolare. Ho una mania per i giochi schifosi, i giochi brutti, i giochi orrendi, i giochi fatti male, i videogiochi intendo. Ecco, capiamoci, dottoressa. Appena ne vedo uno, ne ho uno tra le mani, devo completarlo. Al 100% possibilmente, platinandolo, se possibile. Niente, rischio di impazzire. Basta, non ce la faccio più. Vorrei guarire, dottoressa, e per questo mi sono rivolto a lei, perché so che ha risolto altri casi simili in passato. Sì, sì, ho affrontato questo problema con altri pazienti, ottenendo ottimi risultati. Quindi, coraggio, mi racconti un po' la sua esperienza, mi parli di questo gioco schifoso. Ah, devo... devo proprio. D'accordo. L'ultima schifezza a cui ho giocato si chiama Ride to Hell Retribution. Ed è un gioco per PS3, Xbox 360 e PC del 2013. 2013, dottoressa, soli tre anni fa. Non stiamo parlando di vent'anni fa. Un'epoca in cui i giochi brutti abbondavano. No, tre anni fa. Mi chiedo come sia possibile che esistano abomini del genere. Non capisco neanche perché l'ho acquistata. E, ah, ecco, mi sono fatto bindolare dalla somiglianza, anche se lontana, da Full Throttle, capolavoro della LucasArts degli anni 90. Dottoressa, quanto mi sbagliavo, dottoressa. Quanto mi sbagliavo. Ok, comincia tutto con il classico duro motociclista metallaro di turno che percorre con la sua moto in stile Harley delle strade americane non ancora meglio precisate. Poi subito sbam! Una sequenza in cui devo sparare con una torretta mitragliatrice. Senza motivo, senza apparente motivo. Quindi parte una scena con il personaggio da me controllato sulla moto verso mete ignote. Poi lo ritrovo a fare appugni con un energumeno e qui sono chiamato a premere in maniera assai poco esaltante dei tasti in una sequenza di quick time events di dubbio valore ludico. Il tutto con effetti sonori schifosi. Con la musica che sovrasta tutto e con la capacità di coinvolgimento di una messa in latino. Finita questa scena, ecco che ne parte un'altra in cui il mio personaggio sembra voler ascoltare le ultime parole di un uomo riverso per terra in una pozza di sangue BAM BAM BAM! Tanti colpi! Segue un quadratura figa che dovrebbe far riflettere sui duri trascorsi di quello che per me finora potrebbe essere tranquillamente un pezzo di merda e disadattato qualsiasi. Ah, la prego di moderare il linguaggio. Ha ragione, mi scusi dottoressa. Mi sono lasciato un attimo prendere. Gliel'ho detto, gliel'ho detto. È traumatico questa esperienza. Ah, e non può mancare la scena spettacolare con il salto da un canyon sopra un elicottero in volo con conseguente inquadratura del personaggio e con logo del gioco sovrapposto a tutto lo schermo che si interrompe totalmente a cazzo di cane. Volevo dire a caso. Vengo a sapere che il protagonista si chiama Jack e che è un re educe della guerra del Vietnam che ritorna in patria e subito gli dicono che somiglia a una merda. Jack ha un fratello, Mikey, che ha le mani giganti. Anzi, aspetti, tutti nel gioco hanno le mani enormi. Per un motivo o per un altro, Mikey ha i suoi problemi e scappa dalla stamberga in cui eravamo insieme al vecchio e quindi io devo rincorrerlo con la moto. La guida della moto è quanto di più ridicolo possa esistere al mondo. Il gioco si premura infatti di non farmi sbattere ai lati ma non per fare in modo che si possa proseguire senza intoppi ma perché il gioco stesso sa di essere uno schifo e che le collisioni sono fatte malissimo quindi cerca di evitarle. Fallire un obiettivo significa automaticamente ricominciare dall'ultimo checkpoint il che vuol dire una frustrazione immensa e soprattutto il gioco non mi avvise in alcun modo se sto sbagliando qualcosa. Sbam, hai sbagliato, ricomincia, stronzo, e si ricomincia da capo. Mi scusi, dottoressa, mi scusi. Poi le sembra possibile che in un gioco di moto tutte le fottute strade siano piene di lavoro in corso che neanche la Salerno reggio calabria nei mesi di sciopero degli operai? Le sembra possibile? L'audio è solo uno dei gravi problemi che si porta dietro il gioco tra silenzi eccessivi di alcune scene che trasmettono desolazione mentre dovrebbero essere concitate e il rombo di motori delle moto che invece sovrastano tantissimo le voci di chi parla. Insomma va a finire che Giubbotto indossato da Mikey fa infuriare una delle gang che ci dice di fermarci ma poi non si sa come, siamo soli sulla moto ma ovviamente questi ci raggiungono. Voglio dire, erano in superiorità numerica netta. Perché aspettare che salissimo in moto per poi raggiungerci? E perché cimentarsi in scontri uno per volta aspettando il proprio turno come neanche dal salumiere per farsi accoppare? Un pugno o un calcio comporterà un'eccessiva perdita di sangue del nemico che in generale ha i tempi di reazione di un bradipo morto e che aspetterà la sua sorte con tanto di conseguente esplosione immotivata del mezzo di trasporto. Esplosione che non ha né capo né coda visto che poi noi sbatteremo senza subire danni ma nonostante questo il gioco intuisce che c'è qualcosa che non va e ci fa ricominciare dall'ultimo checkpoint perché non devi sbattere anche se potresti tranquillamente proseguire dopo l'urto non devi sbattere, punto, perché lo dice il gioco. Ah, e c'è da dire che i nemici ci aspettano se rimaniamo indietro. Ci aspettano. Per poi riprendere la corsa dopo che li avremo raggiunti perché non saranno loro direttamente a cercare di contrastarci ma altri motociclisti che spuntano dal nulla, dal nulla totale. perché dei motociclisti che cercano di ucciderci dovrebbero comportarsi come se fossimo noi ad inseguirli per poi affidarsi ad alleati loro che sponano a cazzo dai lati perché, dottoressa, ancora una volta, mi scusi. Forse... Ok, forse mi sto... Guardi, sto pure sudando. Avrebbe qualcosa da bere. Ho una cosa che la farà sentire meglio. E dopo che il gioco mi aveva convinto di aver seminato e per tre quarti ucciso a sangue la gang assassina che succede? Parte una scena della fottuta banda che ci circonda. Perché quell'inseguimento con le moto? Perché quelle uccisioni se poi alla fine vediamo raggiunti lo stesso? Perché? Non ha alcun senso né narrativamente parlando né come gameplay. Perché? Ah, e che scena! Una scena che dovrebbe trasmettere pathos ed emozioni che invece è nel silenzio più imbarazzante. Insomma, alla fine mi uccido nel fratello e anziché fare fuori anche il mio personaggio preferiscono sparare male prendendomi guarda caso di striscio. Let's roll the fuck out of Dodge. Finish him! Perché certo, dottoressa, sgozziamo il fratello minore inoffensivo ma lasciamo libero il cristone che potrebbe poi vendicarsi un giorno, certo! e ricominciano le sessioni in moto con quegli schifo di lavori in corso dappertutto ostacoli disumani in mezzo alla strada e la salute che si consuma poco a poco man mano che andremo a sbattere contro gli ostacoli. Ripetisco, il gioco sembra tollerare piuttosto bene gli urti senza farci distruggere la moto o farci cadere. Ma allora perché farci ricominciare dopo una collisione? Peraltro fatta malissimo. Perché? Ah, è finito il livello di salute e la moto esploderà. Esplode, la moto? La moto con noi di sopra e subito il menu uscirà di ricominciare così senza effetti di transizione o altro. Ho assistito a scene nelle quali dopo aver sbattuto frontalmente contro un pullman senza subire danni ripartendo dal checkpoint il pullman era ribaltato sulla strada spinto da un altro mezzo in barba, alla logica, alla fisica, tutto. E poi ci sono cose che devono essere fatte secondo il gioco e se non le facciamo come dice lui si ricomincia dal checkpoint ogni volta con un pezzettino di salute in meno. Dottoressa anche portare a compimento un'operazione come passare sotto un autocisterno certe volte risulterà un restart dell'evento perché secondo il gioco non l'abbiamo fatto bene. Un po' come se in una partita di calcio venisse annullato un gol regolare ma brutto un gol della merda annullato perché è un gol della cacca un gol brutto annullato perché però regolare Ok guardi abbiamo raccolto informazioni a sufficienza sul gioco suppongo abbiamo detto che i QTE fanno schifo che gli inseguimenti sono illogici che le collisioni non sono di questo mondo e che i dialoghi sono degni di un film talendese di serie Z sì 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 abbiamo detto tutte queste cose ma in realtà abbiamo solo grattato la superficie dottoressa e queste cose dovrebbe dirle lei posso continuare per cortesia ah ne abbiamo ancora per molto? non moltissimo dottoressa però insomma mi sembrava fosse interessato non è che perché ho trovato il buono sconto per questa visita da 15 euro in trave trans volevo dire in topolino lei si deve dimostrare svogliata mi dia la possibilità di spiegare ormai tutto ci stavo pure prendendo gusto insomma dove ho messo lo zibibbo? il sistema di combattimento è una sorta di pallida imitazione di quello di Batman con pugno, calcio e contrattacco il tutto però manco a dirlo funziona malissimo e i nemici aspettano le mie mosse prima di procedere con le loro e ho scoperto che mentre ero lì a vedere come evitare i colpi e come contrattaccare semplicemente premendo il tasto R sulla tastiera con il solo calcio si può portare a compimento o qualsiasi combattimento certo ci vogliono tipo 100.000 calci tutti uguali ma è una mossa pazzesca e inarrestabile che vanifica l'intero sistema di combattimento e rende palese l'idiozia assurda dei nemici a pensarci bene dottoressa una cosa buona c'è in questo gioco lo sa? sì che poi mi vergogno un po' cioè le scene di sesso ci sono tante scene di sesso sì sono mi sono ricordato che si svolgono tutte con i vestiti cioè maschio e femmina cioè il protagonista con le donne sono completamente vestiti vestiti è già assurdo che il sesso in uno schifo di gioco così sia inteso come una sorta di premio per aver pestato gente a caso con donnicciole da quattro soldi che si eccitano per le botte ma che gli sviluppatori abbiano pensato bene di aggirare la censura facendo fare sesso ai personaggi completamente vestiti ma dico mettere una censura tipo i quadratini alla scritta Sand Sword sarebbe stato troppo per non parlare delle facce che questi idiote di femmine fanno ogni volta grazie a tutti e si ricomincia così ogni volta in seguimenti picchiare la gente in moto far esplodere la loro moto e togliere loro la vita e rispettare al massimo le mosse che il gioco vuole farmi fare nonché esibirmi in movenze assurde collisioni al limite del demoniaco e accelerare anche strisciando per terra con la moto per chilometri e con una prostituta dietro che nel frattempo si grattugge il deretano senza lamentarsene in effetti siamo davanti a un caso disperato io le consiglierei un po' di zibibbo no dottoressa non voglio bere ma l'ultima cosa nelle fasi in cui è richiesto di sparare la telecamera andrà quasi sempre per i fatti suoi facendo venire il mal di mare come se il resto del gioco già non bastasse e i nemici pensano bene di attaccare Jack a mani nude certo, come se non avesse una pistola oltre al fatto che la mira è qualcosa di orribile ma che per fortuna i fottuti nemici stanno quasi ad aspettare per farsi headshotare in tutta tranquillità e certe volte il gioco dice che una zona non ha più nemici mentre invece ci sono lì ancora a spararci nemici, dottoressi, nemici, dott... d'accordo, basta eh guardi io non ho mai giocato a questo schifo di gioco ma pur essendo credente mi viene una voglia di essere blasfema al massimo ma dottoressa... passiamo alla cura io pratico un sistema simile a quello dei tossicodipendenti però al contrario cioè le somministrerò dei giochi bruttissimi talmente brutti che sarà come una sorta di catarsi mentale e a lei passerà totalmente la voglia di giocare a nefandezze simili ma dottoressa ma che sta dicendo lei mi vuole male cioè io vengo qui per farmi curare per disintossicarmi da questi giochi brutti e lei che cosa fa? me ne vuole somministrare altri di peggiori ma che... voglio dire non avrà bevuto troppo zibibbo? ma no, ma no, quello era un assaggino ma no, ma no, quello era un assaggino e allora ecco a lei dottoressa io leggo ma mi chiedo che cosa possa esserci di peggio di questa... vabbè dottoressa lei sta scherzando spero io dovrei giocare questa cosa qui lei... maledetto il giorno in cui ho preso il coupon da 15 euro per venire... cioè ma cosa... d'accordo voglio darle retta lo giocherò e ci vediamo alla prossima ma se la cosa non va bene lei mi dovrà rimborsare tutte le visite che stiamo facendo qui grazie 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 grazie